Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi andiamo a spiegare il perché siete magri ma non si vedono gli addominali scolpiti sul vostro addome. Domanda richiesta tante volte in questi anni, forse ho fatto in passato già un video inerente a questo argomento. Ci sono soggetti che sono magri o comunque mi scrivono guarda coach sono molto magro ma non vedo la famosa tartaruga sull'addome. Allora parentesi, quando guardi questi video cerco di darti tanti contenuti utili quindi se mi lasci un like mi fai capire che apprezzi questi contenuti. Chi di voi puoi allenare con me trovate i contatti qua sotto in descrizione sul mio sito. Chiusa parentesi. Allora addominali, addominali come sono costituiti? Quello che noi vediamo la famosa scacchiera sul diciamo sulla pancia è rappresentata dal muscolo retto dell'addome. Retto dell'addome ha delle iscrizioni tendinei. C'ha un'iscrizione tendinea più spessa che quella verticale che prende il nome di linea d'alba e questa linea d'alba diciamo che divide il retto da una parte sinistra e una parte destra. E poi ci possono essere delle iscrizioni orizzontali, a volte asimmetriche, a volte asimmetriche, io ad esempio le ho asimmetriche, ce ne possono essere in modo tale da costituire sei tasselli o in alcuni casi anche otto o in altri casi meno, solo quattro. Ecco qua dipende un po' dalla natura delle vostre iscrizioni tendine. Alcuni hanno queste iscrizioni tendine più profonde e quindi riescono a marcare meglio diciamo la scacchiera sull'addome, altri soggetto le hanno più superficiali e quindi l'addome ha meno profondità se così possiamo definire e quindi si vedono meno questi diciamo cubotti. Queste sono un po' le spiegazioni tecniche anatomiche del perché si vede la scacchiera sul retto dell'addome. Nella maggior parte dei casi mi è capitato sono magro ma non vedo gli addominali. Ecco, molti casi diciamo che si è dei finti magri, ossia soggetti che magari li si guarda vestiti e sembrano soggetti magri ma poi in un esame più approfondito magari andiamo a applicare la pelle sull'addome scopriamo che sull'addome c'è una pelle spessa che ovviamente risente del grasso sottocutaneo quindi se la pelle è spessa non vedete diciamo la scacchiera non vedete le iscrizioni tendine in superficie quindi per riuscire a vedere bisogna avere una bassa percentuale di grasso. Cosa significa bassa percentuale di grasso? Ovviamente qua non c'è un numero esatto però se voi andate a prendere la pliche sull'addome ok? Plicate l'addome anche a occhio si può capire se uno è magro o no. Se questa pliche lo spessore diciamo è sotto gli 8 mm 6 mm ma anche in alcuni casi 10 mm si potrebbero vedere la scacchiera no? Diciamo che più è bassa più vi avvicinate a 3 4 5 mm di spessore più riuscite a vedere la scacchiera. Io se mi plico potrei pensare un po' per esperienza di avere quei 4 mm secondo me 4 5 mm di pliche addominali in questo momento. Generalmente la pliche di riferimento viene presa a lato dell'ombelico in posizione verticale no? Quindi plicate e vedete quanto avete. Ecco se la pliche è più alta molto probabilmente avete un po' di grasso sull'addome e quindi non vedrete ancora la vostra scacchiera. Cosa fare? Ovviamente allenamento mirato non solo sugli addominali ma su tutto il corpo per stimolare il metabolismo abbinare una dieta con deficit calorico per ridurre la percentuale di grasso. Se in caso contrario voi plicate la pliche e notate che avete pochi millimetri molto probabilmente risentite del primo caso ossia avete delle iscrizioni tendine superficiali e quindi vedrete meno marcata la vostra scacchiera. Cosa fare in questo caso? In questo caso si potrebbe lavorare sull'ipertrofia dei muscoli del retto dell'addome lavorando con esercizi pesanti. Ok la muscolatura dell'addome non risente così tanto della parte ipertrofica però questa tipologia di lavoro potrebbe darvi soprattutto in questi soggetti già magri magari dei risultati visibili anche a occhio perché comunque basta poco per mettere in risalto poi la scacchiera. Quindi esercizi pesanti esercizi in cui faticate a fare 5-6 ripetizioni quindi dovete scegliere un attimino voi gli esercizi più adatti per riuscire a centrare questo target di ripetizione quindi intende un carico alto. Magari lavori alla sbara magari lavori più orientati al calis tennis potrebbero essere perfetti per riuscire ai robustieri per trofizzare maggiormente la vostra scacchiera addominale e mettere in risalto la famosa tartaruga. Questi sono poi i consigli per chi non riesce a vedere gli addominali anche se si sente magro. Mi raccomando commento qua sotto per dirmi la vostra e come sempre grazie per l'attenzione continuate a seguirmi qua sul mio canale. Alla prossima ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai corri subito!